Bene, allora adesso ascoltiamo invece delle testimonianze, chiedo di venire qui in modo che la voce risuoni stentoria. Ecco, allora io... Guardate come le dieci vergine che sono legate per un tempo, allora ci vuole la voce dello sposo, quindi venite qui a questo microfono per favore. Io direi perché l'ho ricordato, quel bambino delle gocce d'acqua che sta qui in sala e allora lo vogliamo sentire. Ma scusatemi però, perché non battiamo le mani, non c'è da battere le mani, c'è da condividere esperienze di gioia. Ecco il bambino, un bambino che cercherà di non abusare della vostra pazienza e della vostra resistenza, anche perché c'è uno strano fenomeno di trattolocazione, forse siamo in Italia e forse siamo in Canada, ho un freddo del piccante. Sì, io sono uno dei, forse dei primi arrochi a seguire la cattivese del buon pastore, di cui ignoravo assolutamente sia la definizione, sia l'enorme preparazione della signora che ce l'ha in partita. Ho scoperto successivamente che questa signora che andavamo a Piazza dell'Orologio era un eminente d'imprista, una studiota del Talmud, una donna che ha pubblicato testi fondamentali. Beh, tutto questo, un milione di sette anni, sfuggiva, ma non sfuggiva il fatto di entrare in un ambiente che era un pochino lo stesso ambiente come i bambini montessoriani, andavano a scuola, con tutto a vostra misura. Quello stesso materiale che oggi Francesca mostra e con cui io ho giocato sessant'anni fa. E' incredibile. E a un abbraccio, ho preparato una scaletta, ma chi se ne importa, quando molti, molti anni dopo, adulto, alla vigilia di un matrimonio, ma poi lo trovo, non è durato, ho rincontrato i suoi cavalletti e sono entrato in quella stessa casa e mi sono meravigliato per vedere gli stessi oggetti, la perla, lo scrigno, le pecorelle. E ho detto, ma quante volte le hai dovute ricostruire? E lei mi ha detto, ma è perché i bambini non rompono quelli a cui sono affezionati. Non rompono. E' incredibile. Brevissima, come dire, descrizione della situazione. Immaginate, mi erano tutti i bambini di famiglie alto-borghese, molti dei quali, come me, di congenitori non credenti, mi erano a te. Le ringrazio di averne effetto questa possibilità. Quando ci incontreremo in paradiso, gli dimostrerò che per una volta avevo ragione migliorata, è tutto vero, è tutto vero. E questa coscienza del tutto vero mi è rimasta incollata negli 69 anni di vita. La nostra è stata una generazione turboletta, una generazione sforzata, era il posto 68. Io vorrei sapere quanti di quei bambini, di quei ragazzi che hanno fatto prima la comunione e poi la presi, ma quanti sono rimasti legati alla fede, a questi due toni, pazzeschi, questi due toni li abbiamo tutti, ma che forse qualcuno ci deve fare scoprire, la mia anima è importante. E la mia fede, che è come una cionassia dello spirito, la fede va alimentata, l'ha alimentata con le preghiere, con i sacramenti, con la levitazione. Io ho fatto il percorso della comunione e ho ricordi mentissimi e strano quello che succede in recentità, perché io ricordo scarsamente quello che ho cominciato l'altro ieri a cena, ma di questi giovedì pomeriggi, di queste due ore, a chiamare l'orologio, ho dei ricordi nocchissimi, nettissimi, ricordo Sofia che aveva sempre a mani incrociate, mai così, sempre così, e ricordo un episodio che lei cita, in cui io ero una peste, ero un bambino iperattivo, oggi sarei stato classificato, chissà in quali modi, avevo venito da una fattassia spastica che mi aveva reso un bambino, come dire, difficile nel movimento, nelle porte, eccetera, ed ero una peste. E questa peste, in quel giorno, vede Sofia e Gianna che hanno fatto la comunione, io ancora non l'avevo fatta con me, ed erano in concentrazione immediata, io gli ho dissi qualcosa, non riusciva a stare zitto, non riusciva a stare cerco. e Sofia, a un certo punto dopo, disse, è stato molto bene, è stato un momento con la sua solita pagatezza, autorevole, è stato un momento molto intenso, peccato che qualcuno mi abbia disturbato, e detto un'occhiataccia nella mia direzione, come faceva spesso, e io mi risposi, se tu avessi voluto veramente pregare, non avrei potuto disturbarti. Ho risposto con una rossetta, questa risposta l'aveva scritta in uno dei suoi testi, e ha detto, una risposta così ti toglie completamente la voglia di fare l'insegnante, spero di andare a dire adotta. Mi soffermo soltanto un attimo ancora, ripeto, ho promesso di non usare la nostra esistenza, ma sul momento dopo, che è stato in tessissimo, la carissima, quasi tutti i miei compagni di giochi, di classe, facevano una carissima, mi chiamava l'unione, invece noi facevamo il ritiro, e in questo ritiro io ho avuto un momento, che ricordo ancora, un momento in misi, c'erano varie attività, cose, c'era questa merenda con gli occhi di bue, che ricordo benissimo, e c'era una statua della Vergine, che a un certo punto ho avuto questo impulso di inginocchiarmi in preghiera e contemplazione, come molti altri della mia generazione, e poi ho frequentato pratiche orientali, tecniche di meditazione, il Tai Chi Kung e il Buttigie Mon Sen, non ho mai avuto, non ho mai avuto un momento di comunione spirituale come quello, e mi ricordo che mi passavamo tutti dietro e davanti, ma nessuno mi parlava, nessuno mi disturbava, perché in quel momento la mia totale concentrazione, che non era ostentata, era assolutamente punita. I ragazzi dei 55, come me, hanno preso strade, spesso, che non portavano a nulla, sono finiti con una signa nel braccio, sono finiti con una pistola in mano, diversi terroristi nella scuola, nel liceo alto-borghese che io ho frequentato, sono finiti nelle comuni, sono finiti con il cervello in tappa, anche io ho superato i miei ostacoli, li ho superati, e dopo un periodo di distacco che è durato circa i 25-28 anni, qualcosa mi ha spinto di nuovo in chiesa a farmi incendere la croce, a indignocchiarmi, si inghiossano in un confezionale e a ricevere la mia prima soluzione dopo tanti anni, è stato un momento pazzesco. Chi posso ringraziare? Chi posso ringraziare? Posso ringraziare Sofia? Posso ringraziare Già? In questi casi si ringrazia soltanto Dio, ma questo Dio dovevo far conoscere, te lo devo spiegare in qualche modo, te lo devo presentare, e io sono felicissimo di aver avuto questa opportunità. non so quanti i bambini del mondo in questo momento stanno facendo lo stesso percorso che ho fatto io. Il mio piccolissimo augurio è di non fare certe esperienze che mi sono toccate, ma mantenere questi due doni fondamentali, la coscienza di questi doni, perché l'anima non ce la regala nessuno, l'anima nasce con noi e ci sono i miei, ma la fede qualcuno te la deve spiegare e qualcuno ti deve insegnare ad alimentarla, la ginastica dello spirito. Grazie. Grazie Massimo, qui abbiamo anche un sacerdote che è venuto da Marsala e che ha seguito in questi ultimi anni tutta la formazione catechetica per essere catechista. Se allora mi piace sia un momentino abbiamo anche un sacerdote catechista del buon pastore. E Don Pietro è venuto a posto da Marsala e quindi mi pare doveroso darti la parola. Poi ci saranno altri bambini, ci sta Michela e Guido. Scusate, voglio dirvi soltanto che in terza fila ci sta Sergio e Carla che sono i primi due bambini del primo gruppo di Sofia Cavalletti. hanno avuto figli che sono stati bambini, sono nonni che sono venuti bambini della catechese e sono Sergio e Carla il primo gruppo di Sofia Cavalletti e Gianna. Buongiorno a tutti, buongiorno a eccellenza, buongiorno a tutti voi. Grazie Francesca, mi prendo un po' alla stravista perché comunque non ho preparato niente, non sapevo di fare la testimonianza così e sono fortemente emozionato, però parto da quello che sento, dal sentire, un modo di comunicare forse la cosa più bella, comunicare ciò che ci accade dentro. Io parto dalla mia esperienza di parroco di Marsala in questa parrocchia Madonna della Sapienza, è un quartiere sociale, quindi con tutte le bellezze, le luci e le ombre di un quartiere sociale. E parto dalla mia esperienza del catechismo, del portare avanti il catechismo, quello che in tutte le parole che si fa. Avevo iniziato a fare io una catechesi legata un po' anche al contesto dove sono io, la Sicilia, dove avendo fatto anche un po' di teatro, mi piaceva fare il gioco delle marionette e tutto questo genere di cose. E portavo avanti questo catechismo. E proprio sperimentavo che non mi ci trovavo, nel senso, per dirla un po', come si è detto poco anzi, mi sentivo troppo protagonista di questa cosa, ero al centro. E quindi capivo che c'era qualcosa che non andava, nel senso che ero, si incentrava troppo sulla mia persona. La mediazione dell'adulto, si parlava poco anzi, come la mediazione dell'adulto, come essere catechista, deve essere servo inutile. E questa era una cosa che io non sapevo. Allora quindi mi sono messo a cercare, perché avvertivo, sentivo che al centro ero io e io non saluto nessuno. Noi non saluto nessuno. E quindi mi sono messo un po', così, a cercare, a smalettare un po' su internet, e è uscita fuori questa realtà che io non conoscevo, nel senso, avendo fatto pure l'università al San Giovanni Evangelista lì al Palermo, su studi di catechesi, non è stata presentata questa realtà. E quindi cerco, trovo questa catechesi del Buon Pastore, mi metto in contatto con Francesca e vengo quest'ate, così, per un colloquio, per conoscerci. E lì, quando lei mi ha fatto entrare nella seconda stanza dell'atrio, la seconda stanza dell'atrio, lì ho detto, io ti dissi questo mio modo di... e tu allora dicesti come quei segni sono così forti da allontanarci dal Signore Gesù. E allora lì capì che questa era la strada, questa era la strada di mettere davvero al centro il Signore, con tutto quello che Francesca ha detto. E devo dire che io mi sono... sono arrinato, anche come pastore, come parroco, l'ho sempre detto a loro, per me sono davvero la mia salvezza, perché mi hanno dato nuove motivazioni, nuove prospettive, senaccio, stupore, meraviglia, tutte cose che lì, in quel contesto, o con quella catechesi che tutti noi conosciamo, io non trovavo il mio posto. Quindi quella catechesi del Buon Pastore, la mia testimonianza che posso dire, così giuro, ho trovato il mio posto. E con tanta fatica, perché abbiamo provato a lanciare la catechesi del Buon Pastore dalle mie parti con i bambini, soprattutto piccoli, e ancora attualmente facciamo fatica. Facciamo fatica. Abbiamo provato ad annunziare all'attività che c'è questa catechesi, di lanciarla, ma molte mamme sono ancora molto allestie. ci sono stati anche, come dire, anche discorsi legati a... si è fatta la proposta di fare questa catechesi dei bambini di tre anni, e sono arrivate anche, come dire, delle risonanze di dire, ma cosa... la dico brutta, eh? Dice, ma volete toccare i bambini? Nel senso, come dire, legato a tutto quell'ambito, a quel mondo della pedofilia, di tutto questo genere di cose. E quindi c'è anche una difficoltà. Io sperimento questo, quindi questo è anche quello che vi consegno a voi. Però dico, ecco, grazie perché è davvero un dono dello Spirito alla Chiesa, grazie a Sofia, grazie a Gianna, grazie a loro, perché ho trovato il mio posto per quanto riguarda la trasmissione della fede alle nuove generazioni, che è una cosa, come diceva lui, importantissima, una cosa fondamentale. Grazie. Grazie. Stella e Guido. Eccomi qua, cercando di essere molto breve e molto emozionata. Io ho cominciato a frequentare la catechese del compostore nel datore di Nostra Signora di Lourdes. Avevo tre, quattro anni. Patrizia, la sorella di Francesca che oggi non c'è, è stata la mia prima catechista insieme a Mirella, di cui però ricordo solo il nome e un viso. Pochi giorni fa parlavo con un'altra ex bambina e confrontandoci sui nostri ricordi mi sono resa conto di come i ricordi siano veramente una cosa personale e soggettiva. Io ricordo cose assolutamente diverse da quelle di cui mi ricorda lei e sicuramente tutti gli ex bambini di questa catechesi. E soprattutto io ricordo pochissimo del materiale che utilizzavo quando ero molto piccola. Se io ripenso ai materiali di quando ero molto piccola, ricordo la discesa del buon samaritano, ricordo la casa della presentazione delle Dieci Vergini e il fariseo del fariseo pubblicano e poco altro. La fatica e l'impegno con cui ho scritto il mio piccolo messale prima della comunione e veramente poco altro. E quindi mi domandavo come mai, poi invece dei materiali conosciuti un po' più da grande ho altri ricordi ovviamente, però mi domandavo di come mai ricordassi così poco di attività e di lavori che avevo sicuramente tanto fatto. E la risposta poi mi è sembrata semplice e chiarissima. Il materiale era per me soltanto uno strumento per scoprire, conoscere, meditare altro, anzi altro con l'arma e riuscola. Per questo non lo ricordo, è stato solo il mezzo. Ecco. Poi dopo ho iniziato a tramentare il corso da Sofia e sono entrata in un altro atrico diverso da quello che conoscevo eppure lì tutti i materiali erano familiari. Le mie mani li sapevano toccare, li riconoscevano, anche se non ne avevo ricordo. Erano familiari. Così come è stato poi familiare entrare nel lato della nostra signora di Lourde quando ho portato i miei figli a fare l'Italia di Gese. Lì era anche l'ambiente familiare, gli stessi panchetti verdi, i seggiolini, i tavolini e le pareti. L'ambiente familiare preparato con tanto amore che ti dà il senso della casa. E poi, a proposito di senso di casa, quando ho fatto il corso, dicevo, perché posso dire, Francesca, c'era un corso per fare i catechisti del buon pastore e adesso si fa nell'acro a casa di Francesca, è molto interessante. E poi ci sono dei corsi di aggiornamento periodici a cui io vado, mi sembra, da sempre. E lì ci sono, c'è Francesca, c'è Patrizia, c'è Sandra. Ecco, io ascolto la voce di Francesca e di Patrizia e mi riportano a casa. Sento proprio una familiarità, un ambiente sereno, di pace, incredibile. Un pensiero invece volevo fare su un ricordo sempre di Michela bambina, ex bambina, non relativo al materiale, ma un momento molto particolare. Quando ci abbiamo fatto, si fa la prima riconciliazione, che si fa la sera prima della prima comunione. E io ho questo ricordo di noi seduti tutti in cerchio, ognuno di noi si alzava, andava a confessarsi e poi tornava nel cerchio con gli altri bambini. E ricordo di aver detto, ho proprio questa percezione chiara, andiamo tutti preoccupati e torniamo tutti felici. Qui, fra poco, ci sarà un cerchio di persone felici. Ecco, io conservo questa sensazione veramente di grande gioia. E poi a questi pochissimi ricordi, che sono ricordi appunto legati a momenti, a sprazzi, direi che vorrei spettere veramente due parole su quelli che sono i sapere invece. Un sapere antico che mi appartiene da sempre, non so bene quando l'ho fatto mio. Però ecco, io vi vorrei dire proprio questo. Io so, io so che Gesù mi ama e che mi amerà sempre, che è un amore indissolubile, come quello delle voce d'acqua di cui ha parlato Francesca e poi Massimo. Io so che Gesù mi ama. Io so che Gesù mi cerca e mi chiama per nome e mi chiamerò ogni volta che mi allontano, e mi verrà a cercare e chiamerò più forte quando io mi nasconderò, come è successo in passato quando mi sono allontanata da lui, finché non mi ha ritrovato. Io so che lui mi ascolta sempre, anche quando non esaurisce o non sembra esaurire le mie preghiere. Poi so che la liturgia è un luogo d'incontro dove sempre che posso fare incontrare direttamente l'annuncio della sua parola. E poi, infine, so che lui è risuscitato e che lui è primizia, non ultimizia, e che io la parosia incontrerò e riabbraccerò ai miei cari. Ecco, questo è il mio sapere antico. E a questo sapere antico le ultime due parole restano per un sapere nuovo, più recente, quello che so da poco. Quello che mi ha detto mio figlio Federico quando ero bambino in montagna mi disse Mamma, l'anno prossimo il mio compreamo festeggiamolo in chiesa vicino al tabernacolo. Così c'è proprio Gesù al mio compreamo. E quando ha fatto la prima comunione mi ha detto Gesù mi ha invitato, finalmente, lo aspettavo da tanto, aveva sei anni e mezzo. E poi, un sapere nuovo, da quando faccio la catechista, con i bambini di tre anni o con i bambini di due, ragazzi di dodici, tredici, che vanno a fare la cresima, è che la parola di Dio è veramente parola viva, perché mi parla attraverso di loro, perché mi stupisco con i loro pensieri, con le loro intuizioni, scopro cose che non abbiamo ancora scoperto. Ecco, diciamo che finisco qui. Concludo dicendo, riprendendo il discorso sulla connaturalità che aveva fatto il Vescovo prima. Io penso che sia veramente necessario nutrire i bambini con il giusto nutrimento nel momento giusto, perché solo così possiamo saziare la loro naturale voglia di sapere, di conoscere, di assaporare. E poi, perché c'è proprio un momento ingiusto in cui il bambino è inclino a far su le cose di Gesù, o per dirle come diceva Sofia, Dio e il bambino se ne intendono. Ecco. Applausi Prego due parole, che cos'è la Catechesi del buon pastore? Secondo me è la catechesi di libertà e di gioia, questo già altri l'hanno detto ma io lo voglio ripetere, vivere la fede come gioia, questo è ciò che a me ha dato di più la catechesi del Buon Pastore, che vivo, vivo veramente come fede oggi, come gioia. E l'altro è che l'unica catechesi è la parola, insomma io ho fatto non soltanto questa catechesi, anche altre, non ho mai fatto catechismo e qui forse, non so se è positivo o negativo, ma insomma loro lo sanno, ho qualche difficoltà con il Magistero, Io cerco di leggere la parola e leggo tante cose del Magistero ma le considero diciamo un qualche cosa che non è la parola, ecco, forse in questo sopra me l'ha detto, io credo che sia questo il messaggio che Sofia ci ha dato, leggete che capirete dal Vangelo. L'altra cosa che voglio dire qui ti ricordo di Sofia, a parte il fatto che parlava sempre e solo così, parlava esclusivamente così, era veramente una cosa bellissima per i bambini, questo è quello che mi ricordo. Effettivamente questo modo di parlare è affascinante, però io non sono mai stato affascinato da Sofia, altri parlano di Sofia come lei e invece io ho sempre, e questo è stato fondamentale e questo è stato fondamentale ed è stato ripetuto da Francesca, lei era veramente il servo inutile perché mi ha parlato di Dio ma non era lei che parlava, ma lei che lei, diciamo era soltanto il trattitudine con quello che non lo faceva conoscere, questo è secondo me fondamentale per fare appunto una vera catechesi della parola. l'altro aspetto è quello della liturgia l'abbiamo già detto tutti il fatto di conoscere, di scrivere il Vangelo in queste settimane ho ricercato disperatamente la copiatura purtroppo non l'ho ritrovata ma veramente lo scrivere passo per passo poi non ce l'ha detto insomma voi lo conoscete però insomma i colori sono diversi perché appunto i vari momenti per cui non è detto che si inizia dall'inizio e poi si va alla fine si poteva pure iniziare dalla metà e poi c'era questa consegna finale del libricino tutto bello rilegato ecco il vivere la liturgia non come andiamo a messa ma partecipiamo alla messa la messa come evento in cui si loda a Dio e si partecipa insieme ed è una cosa della comunità è un'altra cosa che a me mi ha dato tantissimo e che sento ancora e poi appunto la libertà e gioia e sicurezza che questo viene che Dio parla con i suoi tempi vi racconto un fatto diciamo personale che conoscono pure mia figlia non l'ho portata purtroppo in un atrio ma in un catechismo e a un certo punto lui ha detto io non ci voglio più andare perché si capisce che la suora non ci crede e per lui siamo rimasti un po' così però poi a me non importa ci penserà a lui poi ci ha pensato anche Don Andrea veramente molto però insomma ha avuto tempo a un certo punto io ho visto un giorno che si è messo in fila e ha fatto la comunione aveva mi sembra 25-26 anni così in modo molto normale con la libertà appunto di andare a conoscere Gesù senza questo è quello che ci ha mi ha detto Sofia e che io credo di aver detto senza nessuna regola ecco le regole del cristianesimo cerchiamole di eliminare